ecco si arriva ecco i merci eccolo queste merci da la specie migliorina a nola quello che sia un invio eccolo si può vedere un andamento spettacolare questo dove sia un mitico non è una e 652 questo dove via invio di da la specie migliorina a caserta a sinora oppure la specie migliorina o barri eccolo un po namenti e 652 dei volte queste namenti guarda ecco me c'è un invio ma questo è un invio straordinario